Sempre più giovani i cervelli in fuga dall'Italia, i laureati italiani che decidono di trasferirsi all'estero in cerca di futuro di lavoro sono infatti aumentati. Lo scorso anno sono stati quasi in 28.000 a decidere di lasciare il paese, pari al 4% in più rispetto al 2016, e quanto riporta l'Istat in un rapporto sulla mobilità interna d'Italia e sulle migrazioni internazionali della popolazione residente, negli ultimi 5 anni i deflussinetti di persone di 25 anni e più, dovuti agli espatri, sono pari a oltre 244.000 e di questi il 64% è in possesso di un titolo di studio medio-alto, con un forte aumento di emigrati, laureati e diplomati, che tra 2013 e 2017, fa sapere sempre l'Istat, sono stati oltre 156.000. Ma cosa spinge a lasciare l'Italia? Secondo l'Istat le motivazioni vanno attribuite in parte all'andamento negativo del mercato italiano e in parte alla nuova ottica di globalizzazione che induce i giovani più qualificati a investire il proprio talento nei paesi esteri, nei quali sono maggiori le opportunità di carriere e di retribuzione, e nonostante la Brexit si opta ancora spesso per il Regno Unito. In parallelo continua la mobilità interna dal sud verso il centro-nord. Negli ultimi 20 anni la perdita netta complessiva di popolazione del Mezzogiorno per via di questi trasferimenti è stata pari a 1.174.000 residenti e quasi la metà, a un'età compresa tra i 15 e i 39 anni.